Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi che cos'è il gerrymandering e le sue applicazioni. Per potervelo spiegare in modo molto chiaro, mi piace utilizzare l'app Dave's Restricting, che è molto comodo per poter analizzare i distretti e crearne i propri. Questa è un'app totalmente gratuita, quindi potete utilizzarla voi. Il link ve lo lascio in descrizione. Un esempio molto chiaro di gerrymandering si trova nell'Ohio. Andiamo a vedere la mappa congressuale, quindi la mappa che definisce i distretti, quindi i collegi elettorali della Camera dei rappresentanti americana. Bene, vedete l'app ci rappresenta una mappa con le forme di tutti quanti i distretti. Inoltre si fornisce dei dati dove vengono valutati i voti in base al periodo storico. Considerate l'Ohio è uno stato tipicamente in bilico, dove i democratici e i repubblicani si trovano pressoché in parità, di solito. In questa lezione qua possiamo notare, vedete, per ogni distretto il risultato elettorale. Che cos'è il gerrymandering? Il gerrymandering è la strategia che comporta a utilizzare il cambio della forma dei distretti a scopi elettorali. Che cosa significa? Sapete che le elezioni di tipo americano sono totalmente maggioritarie, quindi una volta definita la forma di un distretto, chi ottiene più voti vince. Però a poter rappresentare la forma di questi distretti spesso sono propri politici, che quindi controllano la legislatura e disegnano dei distretti a loro favore. Questo qua è un esempio di gerrymandering. Immaginate un'elezione con 60% di voti blu e 40% rossi, un'elezione probabilmente scorretta. E' questa qua, dove permette a tutti quanti i blu di vincere, in base a questa forma, ma anche questa lo è. Perché con questa forma, che cosa va a fare? Vado a inserire i blu in un solo distretto, addirittura i rossi, nonostante abbiano preso meno voti, riescono a vincere. Ci sono essenzialmente due strategie, c'è il packing e il cracking. Il packing, cioè vado a impacchettare tutti i voti avversari in un unico distretto. Mentre il cracking è vado a spezzare i loro voti per diluirli. Di solito il packing lo fai quando non puoi rompere i voti dell'avversario, cioè quando i voti dell'avversario sono troppi e quindi non puoi eliminarli, ma li vai semplicemente a unirli tutti insieme in modo da diluirli poi in tutti gli altri distretti a fianco. Mentre il cracking lo fai quando i voti dell'avversario sono pochi, cioè si trovano in minoranza in un'area dove tu sei in vantaggio. Quindi non ti conviene andare a metterli insieme, ma ti conviene dividerli. In questo modo vai a vincere. Nell'Ohio ci sono tutti questi esempi. Un esempio di cracking è qui, il distretto numero 1. Andiamo a vedere, ecco, con questa label la differenza dei voti. Vedete, nella zona di Cincinnati, essendo una città, c'è una maggioranza di voti democratici, cosa tipica negli Stati Uniti. Grazie a questa forma, vedete, ci sono tre distretti, 1, 2 e 3. Tutti e tre distretti saranno maggioranza repubblicana, perché, vedete, l'area democratica è stata divisa in due distretti, quindi si è andato a diluire il potere di voto di questi elettori. Se avessi fatto, per esempio, un unico distretto contenente quest'area qua, sicuramente sarebbe stato i democratici. Invece i repubblicani, che controllano la legislatura, sono andati a spezzare questi voti. Questo perché, in generale, è un'area, come vedete, è comunque a maggioranza repubblicana, quindi è più semplice andare a dividere i voti degli avversari, in questo caso dei democratici. Un esempio opposto, per esempio, è qui, questa è la città di Columbus, che è la capitale dell'Ohio, e vedete questa forma strana? Questo è perché sono stati impacchettati, in un solo distretto, la maggioranza di voti democratici. In questo modo, i due distretti contigui, questi due, che comunque entrano all'interno della città, saranno maggioranza repubblicana, quindi si vanno a diluire i voti dei democratici. Probabilmente, se si vanno a sommare i voti di questi tre distretti, la maggioranza è democratica, però, con questa strategia, i repubblicani vanno a vincere due distretti, i democratici soltanto uno. Poi qua è ancora più clamoroso, vedete, c'è questo distretto qua, che va a impacchettare soltanto i voti democratici. Insomma, questo è un capolavoro di imbroglio elettorale legalizzato, essenzialmente. Di solito sono i più repubblicani a usufruire del gerrymandering, ma non per forza. Per esempio, uno stato controllato a maggioranza democratica, con grande gerrymandering, è il Maryland. Andiamo a vedere. Ecco qua. Sappiate che tutti questi distretti sono a maggioranza democratica, nonostante i democratici vincano col 60% in questo stato. Soltanto il distretto 1 è a maggioranza repubblicana. Andiamo a vedere un po'. Vedete? Tutta questa parte rossa del distretto 6 viene altamente diluita da queste parti vicino a Washington. La stessa cosa qua. Vedete la forma bizzarra di questo distretto numero 3? Praticamente si va a diluire questa parte qua fortemente repubblicana andandosi a prendere i democratici in questa zona. Quindi come vedete il gerrymandering è un grande problema della democrazia americana e si spera che nel futuro si farà in modo che commissioni indipendenti vadano a stabilire i confini elettorali dei distretti. Al momento non in tutti i stati così. Bene, un video cortissimo, ma questa app è molto utile per giocare, anche per creare i propri distretti. Magari in futuro cercherò di creare con voi dei nuovi distretti elettorali possibilmente FAIR, come direbbero negli Stati Uniti. Quindi che garantiscono una proporzionalità dei voti. Io vi saluto, iscrivetevi, commentate e mettete like. Ciao da Andrea. Ciao ciao! Ciao! Alla prossima.